Nelle ultime settimane si è parlato molto di Rosa Perrotta. L'extronista è in dolce attesa ed è stata spesso ospite nei salotti televisivi per parlare della sua storia con Pietro Tartaglione Nonostante ciò non mancano le polemiche social. Come, purtroppo, capita a molti personaggi della tv, anche la bella Rosa è stata attaccata e criticata fino a quando non ha deciso di rispondere ai suoi haters Rosa Perrotta in dolce attesa.Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne quando la bella Salernitana sedeva sul trono Dopo un percorso emozionante è stato scelto proprio l'avvocato Casertano, arrivato alla fine del percorso con Alex Adinolfi I due, sicuri dei sentimenti che li univa, poco tempo alla scelta sono andati a vivere insieme Rosa è poi partita per l'avventura all'isola dei famosi, Pignara che al suo ritorno ci sarebbe stata una fantastica sorpresa Appena rientrata dall'Honduras, infatti, il suo Pietro si è inginocchiato, e davanti a milioni di italiani, la chiesta in sposa L'ex tronista è rimasta quanto meno sorpresa e ha atteso qualche interminabile secondo prima di rispondere sì Solo pochi mesi fa il fantastico annuncio, Rosa perrotta è incinta. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web, e i due sono stato spesso ospiti di diverse trasmissioni televisive I due felicissimi ed innamoratissimi hanno annunciato che a giugno sarebbero diventati marito e mogli Le nozze sono state fissate come detto per giugno ma l'ex tronista intende aspettare per capire, quale sarà la situazione in vista del grande giorno Ora la priorità è avere una gravidanza serena e non turbare il nascituro.Rosa perrotta è la polemica social Nonostante la situazione non sono mancate le critiche e gli attacchi all'ex tronista sul sociale Alcuni follower, infatti, hanno scritto dei messaggi riprovevoli a Rosa come, vergognati, che insegnamenti darai a tuo figlio, che ti costava indossare un reggisimo o sei senza rispetto, senza contegno Il riferimento è alle foto che la bella Rosa ha pubblicato sul suo profilo Instagram L'ex tronista, però, ha voluto rispondere a tutti coloro i quali l'hanno criticata con un lungo post che di seguito vi proponiamo La risposta di Rosa perrotta è diretta, e senza troppi giri di parole. Fa riferimento alle lotte che le donne hanno fatto nel corso della storia per ottenere la parità La fidanzata di Pietro Tartaglione si dice amareggiata per i commenti ritenuta. Ha ragione, offensivi e privi di fondamento